Buongiorno ragazzi e benvenuti sul mio canale, io sono Katia e oggi nuovo video. Mi vedete già con una fascia in testa e in questo modo insomma, perché oggi andremo a fare una skin care insieme. Ragazzi, se mi seguite da tantissimo saprete benissimo che in questi periodi, soprattutto dalla seconda settimana di dicembre più o meno, comunque è circa un mesetto che vi parlo, che sto facendo una skin care molto molto diciamo bomba, che ho aspettato a farvi vedere e mostrarvi proprio perché volevo testarla e ragazzi è una bomba. Adesso vi spiego tutto, iniziamo subito perché intanto che ve la spiego la facciamo insieme e ci strucchiamo anche insieme che è ora direi, iniziamo! Allora, circa un mesetto fa più o meno, che avrete visto tutto anche nel video dei regali di compleanno, avevo fatto un... vi avevo parlato di questa skin care, di questo brand che si chiama Iepoda o Iepodà, comunque mi è arrivato un pacchetto, un po' di giorni prima di Natale, vi lascio qua la clip e vi faccio vedere l'unboxing e tutto, sono rimasta scioccata, c'era dentro intanto che vi mostro qua da qualche parte proprio l'unboxing e tutto il pacchetto che era super carino, c'era anche questo foglietto illustrativo con ragazzi, ma tanti, ma tanti, ma tanti prodotti, sono in tutto, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette prodotti perché questa è una skin care coreana e sapete che la skin care coreana richiede molti passaggi, la doppia detersione, tanti passaggi e tanti prodotti per la skin care, dal più liquido al più solido, poi all'interno c'è un panno che noi andremo a utilizzare adesso, prodotto per prodotto, c'è una spatolina, questo in tutto è il full glow set, si chiama, ve lo lascio qua scritto, poi nell'info box vi lascio ovviamente anche il link di Iepoda e avete anche un codice a sconto che io vi consiglio vivamente perché adesso che andremo a struccarci vedrete benissimo come strucca, cioè, wow, davvero wow, sapete che se io ve lo consiglio è perché è davvero wow, comunque, ripeto, vi lascio giù il link nell'info box, qua c'è la spatolina per, guardate che carina, che andremo a utilizzarla dopo vi spiego tutto, e un pennellino da applicazione per le maschere con super super morbido che è anche un piacere ragazzi passarsi sul viso, comunque questi erano i prodotti che facevano parte di tutto il set e adesso ve ne parlo, prodotto per prodotto, intanto li utilizziamo, così ci strucchiamo, come prima cosa vado a togliermi le lentine e ovviamente andiamo a fare vedete, questo è il Deplian con tutti, 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 tutti i passaggi, come appunto, cioè il balsamo, i due prodotti per la detersione, per la doppia detersione, per struccarci e poi man mano andiamo in là con i prodotti e ve li spiego uno a uno, io sono super 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 emozionata, ripeto, prima di iniziare a struccarci e a usare e farvi vedere, sì, saranno usati i prodotti, non sono nuovi nel pack perché come vi ho detto è un mese che li sto utilizzando più o meno questa settimana scade ed è praticamente un mese ed è praticamente un mese che vedo anche la mia pelle super migliorata devo dire che amo questa linea, amo questi prodotti, no e ripeto, non perché me li hanno regalati ma perché davvero adesso vedrete come sono validi e soprattutto sapete che io ero una di quelle che assolutamente senza fondotinta, no perché ero sempre piena di imperfezioni a parte per le schifezzine che mangio e per il periodo di noi donne che mi riempio sempre soprattutto sulla fronte, sul mento e un po' sulle guanciotte invece devo dire che, vabbè a parte che adesso ho anche un po' di fondotinta, ormai il trucco è anche quasi andato, è tutto sfasato, infatti ci strucchiamo però devo dire che di imperfezioni ne ho molte molte meno, sì ho un po' di brufoletti vari ma ripeto perché mangio tante schifezze ma davvero mi sento la pelle è super super migliorata iniziamo subito perché il primo prodotto è lui, eccolo qua, il Decalme Balm questo qua è un prodotto, vi faccio vedere, è un balsamo, sapete che adesso vanno di moda tanto quei balsami solidi tipo burro che sciolgono bene il trucco, guardate quanto l'ho usato, tanto per dirvi e adesso lo andiamo ad applicare insieme andiamo in bagno che vi mostro l'applicazione del balsamo, prodotto per prodotto questo intanto è tutto il Deplan e il foglietto dove spiega passo per passo tutti i prodotti da utilizzare come vedete sono numerati e sono ben 5, cioè 5 in realtà 6 con la maschera da giorno e poi da capo la sera con la crema da sera appunto e noi iniziamo appunto da questo, dal Decalme Balm praticamente questa è la descrizione è ora di rilassarsi, il Kan Balm ti aiuterà a lasciarti la giornata alle spalle rimuovendo trucco in purità in modo delicato bisogna scaldare il balsamo tra le dita e massaggiarlo su tutto il viso con movimenti circolari emulsiona il viso con un po' d'acqua, poi bagna un po' un panno di cotone che noi utilizzeremo appunto il panno di Iepoda, guardate che carino ed è super 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 morbido noi utilizzeremo proprio lui e poi bisogna con acqua calda bisogna bagnarlo, strizzarlo e metterlo sul panno, metterlo umido sul viso aspettare un momento che il vapore apre i pori e poi passare delicatamente sul viso per rimuovere il trucco e il sebo in eccesso quindi iniziamo a fare questo questo è anche uno dei prodotti che amo ragazzi, è super super valido e guardate l'ho stra stra consumato e ovviamente man mano che ve li faccio vedere volevo anche dirvi che avete il codice sconto CATI30 così almeno se vi interessa qualcosa, cosa che io vi straconsiglio soprattutto i prodotti per la detersione e il siero che sono dei prodotti bomba almeno per quanto mi riguarda e per quanto riguarda questo quasi mese che sto provando questi prodotti dovete provarli almeno una volta nella vostra vita, provateli e poi tornate sotto nei commenti di questo video fatemi sapere come vi siete trovati perché io non mento ragazzi sono una bomba questi prodotti eccoci qua in bagno, adesso vado a prelevare un po' del mio balsamo che mi si è... eccolo qui andiamo a prelevarlo, io ne prelevo sempre questa quantità ed è sufficiente per tutto il viso vado a passarlo appunto su tutto il viso e massaggio, massaggio, massaggio in modo tale che sciolga bene tutto il trucco guardate anche, soprattutto sugli occhi aspettate... c'è! è qualcosa di fantastico adesso finisco di massaggiare il balsamo e tolgo anche le lentine che mi sono pure dimenticata di toglierle è davvero super 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 poi è un profumo buonissimo sono tutti prodotti con ingredienti naturali davvero fantastici adesso vado un po' a togliere le lentine e prendere un po' di acqua tiepida e andiamo a rimassaggiare un po' così in modo tale che questo burro balsamo struccante si trasformi un po' in schiumina cioè sono completamente tutta nera intanto ho tolto le lentine adesso ho bagnato la faccia e guardate, vedete? si forma una schiumetta e intanto scioglie bene tutto il trucco e dopo andiamo a rimuovere anche con un panno che bisogna prima bagnarlo come abbiamo letto prima in acqua tiepida appoggiarlo sul viso e lasciarlo sciogliere adesso io sto massaggiando per bene tutta la pelle è proprio fantastico è anche piacevole da spalmare non è prodotto di solito per me i prodotti tipo balsami struccanti mi bruciano soprattutto all'interno dell'occhio invece questo lo amo tantissimo in questo modo u quanto sono bella adesso bagniamo il nostro panno in questo modo guardate bene come mi ha sciolto completamente tutto il trucco ok, lo strizziamo ok e andiamo a rimuovere il tutto dalla faccia ah cioè meraviglioso poi ovviamente mai lavorare in modo aggressivo sulla pelle ma sempre massaggiandola o sfiorandola guardate che roba assurdo per la doppia detersione adesso una volta finito di passare il nostro panno per rimuovere tutto il trucco tutte le schifezzine che avevamo in faccia adesso abbiamo la schiuma e passiamo al secondo prodotto che adesso vi mostro guardate cioè aiuto adesso questo lo butto in lavatrice direttamente il secondo prodotto è il The Bubble Double praticamente è una schiuma detergente purificante delicatamente sfogliante e astringente il migliore alleato dei calm balm insieme questo dopo vi aiuterà che tra l'altro ragazzi è una bomba e un profumo assurdo buonissimo adesso vi mostro tutto questo duo vi aiuterà a pulire profondamente la vostra pelle dopo una lunga giornata il Bubble Double lascerà il viso illuminato e pulito bisogna prendere una quantità delle dimensioni di una noce sulla mano e massaggiare il viso con movimenti circolari e poi sciacquare con acqua calda e asciugare il viso con un panno morbido con un asciugamano ed ecco qua il nostro The Bubble Double questa ormai praticamente sono già quasi arrivata a metà ho già inumidito il viso questo va usato come abbiamo letto io utilizzo questa quantità mamma mia la profumazione è qualcosa di fantastico lo scaldo tra virgolette sulle mani e vado a massaggiarlo su tutto il viso in questo modo in questo modo vado a pulire ancora di più la pelle in profondità e faccio una seconda appunto detersione la doppia detersione è diciamo qualcosa che non ho mai fatto più o meno da un anno a questa parte se mi seguite sul canale sapete che io la facevo già ma con altri prodotti ovviamente questi prodotti li sto utilizzando da poco più poco meno di un mese fantastici e adesso bisogna sciacquare il viso con acqua tiepida quindi arrivo questo prodotto da applicare è la The Mist Eve praticamente è questo numero 3 azzurro The Mist l'arma segreta per un'idratazione istantanea mattino, sera per tutte quelle volte in cui hai bisogno di un boost rinfrescante la Mist Eve sarà lì per te questo praticamente ragazzi va spruzzato sul viso ed è un prodotto idratante rivitalizzante rilassante bisogna agitare bene la bottiglia per mescolare gli ingredienti poi da una distanza di 30 cm premere il beccuccio e usare 2 o 3 applicazioni 2 o 3 spruzzi sul viso per idratare il viso attendere che il prodotto venga assorbito dalla pelle e tamponare delicatamente il viso con le dita andiamo a farlo eccoci qua ragazzi adesso siamo qua e finiamo la nostra skin care prima ci siamo spostati in bagno perché logicamente la pelle è super super morbida comunque ci siamo spostati in bagno perché mi serviva l'acqua adesso andiamo a usare la The Have Mist eccola qua questo è la confezione ovviamente ripeto non sono tutti nuovi perché li sto usando da un bel po' agitiamo bene spruzziamo io ne spruzzo sempre 3 ma i 2 un'idratazione in più da un po' lontano ok l'ho fatti 3 e mezzo e poi io tampono sempre sul viso in questo modo anche con le dita in modo tale che si asciughi è super rinfrescante questo sono d'accordo wow 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 intanto i prodotti assolutamente per ora di quelli che abbiamo già provato insieme che assolutamente vi consiglio sono tutti però ragazzi dovete assolutamente provare la detersione cioè è qualcosa di spettacolare e vedrete che la vostra pelle vi ringrazia fidatevi anzi se voi fate la doppia detersione fatemi sapere anche come la fate e cosa utilizzate sono molto curiosa questo prodotto adesso si è assorbito devo dire che si assorbe anche velocemente quindi ottimo e andiamo al quarto passaggio il quarto passaggio è una maschera quindi ci servirà il nostro pennellino mi sono dimenticata di farvi vedere questo applicatorino che c'era all'interno per prelevare un po' di decan balm però davvero anche questo è super utile più che altro è molto igienico bello anche questo vi arriva anche in una confezioncina troppo troppo carino quindi adesso pennellino per la maschera perché il quarto prodotto è il decitox e adesso ve lo leggo allora citox allora aiuterà 1-2 volte a settimana a ricaricarti di vitamina c mentre una spinta di curcuma completerà il detox della tua pelle è illuminante opacizzante cosa che è perfetta per me perché soprattutto nella zona t ho sempre una pelle super mista e poi disintossicante assicurati che la tua pelle sia pulita e fai una doppia pulizia se necessario quello che abbiamo appena fatto noi applicare uniformemente il citox citox non so come si pronunci con il pennello morbido come la seta e lascia in posa 15 minuti rimuovi delicatamente con acqua calda una semplice maschera ma questa è super super illuminante confermo perché da quando uso lei la pelle cioè questa è la maschera questa è la quarta volta che la utilizzo sono sincera non l'ho utilizzata più volte ma per essere la quarta volta posso già dirvi io intanto utilizzo quella che c'è un po' nel tappo si vede che all'interno c'è anche la curcuma perché è bella giallina però per essere la quarta volta che la utilizzo posso già dirvi che la pelle risulterà subito molto più luminosa quando l'andate a sciacquare io adesso la applico col pennellino suo anche questo ragazzi se acquistate la maschera provate assolutamente questo pennellino perché è quasi una goduria metterselo in faccia è proprio super 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 morbido adesso finiamo di applicare la nostra maschera e la andiamo a sciacquare dopo 15 minuti con acqua tiepida quindi ci vediamo tra 15 minuti questa è l'applicazione della maschera e ragazzi io amo questi prodotti sono troppo 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 contenta e ci tengo anche a ringraziare l'azienda per avermeli fatti provare e poi sono stati anche onesti perché mi hanno detto non è che noi te li mandiamo e devi fare un video cioè subito dire come tante che fanno che gli mandano i prodotti e poi sono buonissimi punto no ragazzi bisogna provarli io è quasi un mese che li provo e quindi adesso so già di cosa sto parlando e come sono questi prodotti 15 minuti aspettiamo e togliamo tutto con acqua tiepida ci vediamo dopo perché mancano uno e due passaggi ovviamente questa diciamo che è la skin care giornaliera ok ragazzi sciacquata per bene la maschera e adesso abbiamo il siero abbiamo questo qua The Repar Hero praticamente va messo dopo la maschera vi faccio vedere nel nostro sempre nel nostro foglietto allora è un siero potente per una pelle più liscia luminosa e giovane alta concentrazione di ingredienti probiotici ripara la tua pelle ti dona un colorito uniforme e luminoso praticamente è un siero idratante ricostituente e anti aging allora pulisce e prepara il viso come di consueto prima dell'applicazione per ottenere il massimo del tuo siero quello che abbiamo fatto adesso praticamente bisogna metterle mettere due o tre gocce di siero sul viso bisogna distribuirlo su tutto il viso e poi massaggiare delicatamente fino a che non si assorbe questo è il nostro siero e adesso andiamo anche di questo ragazzi sono già a metà ecco magari di qua si vede meglio guardate quanto ne ho usato mi sto trovando davvero non bene di più io faccio sempre sul dito non sul viso una due aspettate che ne prendo un'altra faccio sempre ok tre goccine in questo modo lo passo tra le dita e lo massaggio su tutto il viso delicatamente e anche sul collo in questo modo fino a che non si assorbe è fantastico adesso ne sono usciti ripeto vi lascio giù il link nell'info box del sito di Iepoda perché sono usciti anche due nuovi seri uno illuminante uno purificante fantastico vedete poi si assorbono sono prodotti che si assorbono subito fantastici una volta al siero abbiamo l'ultimo prodotto l'ultimo prodotto è una crema che adesso io nel mio caso vedete il 5 è 5 e 5 cioè sia la crema giorno che la crema notte nel nostro caso andiamo ad applicare la crema giorno ma la crema notte le amo tutte e due ma la crema notte ragazzi è fantastica la mia preferita secondo me è una crema top solo perché comunque mi stavo impappinando perché va messa anche come maschera notte vi la faccio vedere perché noi adesso andiamo ad applicare la crema viso vi leggo anche la descrizione è bella ricca come cremina praticamente questa è la anche questa come sempre sono tutti prodotti che sto usando tanto ve l'ho già detto The Midnight Magic è una crema l'idratazione l'ultimo passo della vostra routine notturna quotidiana rispetto a una crema da notte una maschera da notte è più ricca e nutriente crea uno strato protettivo sulla pelle che si assorbe lentamente durante la notte per dispiegare tutta la sua potenza e fidatevi che io mi alzo la mattina che ho la pelle super 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 morbidosa allora è bella rimpolpata anche bisogna allora pulire preparare applicare dopo tutto il lambaradam che abbiamo fatto applicare uno strato non spessissimo ma neanche leggero io come faccio ne applico una bella quantità senza esagerare ma neanche poca bisogna massaggiare delicatamente uno o due applicazioni della maschera da notte su tutto il viso lo strato protettivo sarà assorbito lentamente durante la notte mentre la maschera invece se ne applicate di più invece fa la sua magia è fantastica ragazzi poi per i prezzi che hanno sono molto convenienti poi ripeto con me se usate il mio codice avete anche il 30% di sconto con Kati30 quindi comunque trovate tutto nell'info box e lo pagate anche di anche di meno insomma il 30% è già un bello sconto e oggi andiamo a usare lei invece la crema The Make My Day Cream questa qua allora bisogna anche questa stendere delicatamente uno o due applicazioni di crema su tutto il viso usa la punta delle dita per massaggiare la pelle questa è una crema idratante anti-aging e protettiva inizia al meglio la tua giornata l'idratazione è un elemento essenziale di ogni skin care routine grazie al potente ingrediente Chica ti stai prendendo extra cura non cura extra cura della tua pelle mentre ottieni anche incredibili benefici anti-invecchiamento beh meno male questa è la cremina anche lei la sto utilizzando parecchio questo è il pack sono tutte e due a pompetta le creme faccio io faccio così ecco qua questa è la dose che utilizzo io per tutto il viso la profumazione è molto delicata ma mi ricorda tanto i prati ma non quell'odore di erba nei prodotti che a me non piace è davvero molto delicata poi super fresca wow però si sente che non è una crema super 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 leggera è abbastanza ricca come crema e la vado a passare su tutto il viso massaggiandola ed è fantastica e diciamo che con questo step finisce la nostra skin care devo dire che da quando l'azienda mi ha detto se volevo provare mi ha proposto di provare questi prodotti devo dire che scoprendo la skin care coreana già ero una appassionata di skin care mi si è aperto un mondo un mondo sulla skin care davvero fantastica e davvero ragazzi wow 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 io spero che questo video vi piaccia ripeto se volete anche voi provare questi prodotti vi lascio con il codice cati30 vi lascio giù nell'info box tutti i link il link al sito provate soprattutto le cremine il siero la doppia detersione provatela almeno una volta perché è una bomba credetemi poi se riproverete fatemi sapere nei commenti cati l'ho provato com'è sono curiosa io vi mando un bacio grande 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 oggi voglio salutare Paola Riviecio ti mando un bacione grande grande tesoro grazie a tutti che mi seguite ragazzi siamo quasi arrivati ai 5.000 iscritti davvero grazie 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 ripetuto per 5.000 volte quasi un altro bacione ci vediamo domani o dopo domani con un nuovo video ciao domani ciao ciao Grazie a tutti.